Lei pensa che il fatto di mantenere un legame tra la Fondazione e la Banca sia una condizione necessaria per assicurare un futuro senese alla Banca? Io penso che l'unico vero elemento di legame con il territorio lo si realizzi attraverso una partecipazione della Fondazione all'interno di Banca Monte dei Paschi. Dopodiché questa è la mia massima ambizione in termini prospettici. Senta Presidente, parlando di orizzonte temporale ravvicinato, lei scade in aprile, quindi questo mandato si sapeva, era previsto dallo statuto, è un mandato brevissimo. Quindi conta di risolvere i problemi della Fondazione di qui a aprile? Io questo conto, potessi farlo domani mattina, ovviamente il tempo non è una variabile indipendente, però io credo di dover consegnare, questa è la mia responsabilità e questo è il mio auspicio, il mio intendimento, è una situazione certamente migliore di quella che ho trovato, che non è difficilissimo ma non è neanche facile, stante le condizioni di contesto. Dopodiché io rimetterò il mandato così come è previsto e quello che poi ovviamente saranno le valutazioni delle deputazioni sarà una conversazione politica riservata non a me.